gentili telespettatori buona giornata nuovo decreto del governo è il mille proroghe 2022 si parla di psicologo con tante casa cartelle esattoriali vediamo che cosa c'è in questo decreto dopo che la maggioranza di governo si era già divisa mercoledì notte il governo era stato battuto quattro volte in commissioni bilancio e affari costituzionali il 21 febbraio la camera ha votato la fiducia posta dal governo con 369 sì 41 no e 0 astenuti il 22 febbraio la camera dovrà dare il via definitiva cioè oggi e il testo passerà al senato che dovrà approvarlo entro il 28 di febbraio quando scade scadono i 60 giorni per la conversione in legge sapete che i decreti hanno 60 giorni di tempo per essere convertiti se no decadono i tempi sono stretti il testo deve essere approvato senza modifiche nel mille proroghe vengono inserite misure decisamente importanti tra le cartelle esattoriali per medie piccole imprese persone fisiche professionisti quelli che hanno preso poi i prestiti covid con garanzia pubblica e poi si parla di ilva con tanti e la proroga fino al 2025 per le varie sperimentazioni cominciamo con il bonus psicologico il governo ci manda dal psicologo come dicono in alcune parti d'italia del psicologo beh un valore di 600 euro a persona e sarà assegnato in base all'isee che non dovrà essere superiore ai 50 mila euro e se è superiore te lo paghi tu lo il psicologo lo psicologo il bonus viene da utilizzare per le terapia psicologica è entrato in questo decreto per chi ha un disagio mentale e non può pagarselo da solo le sedute dallo psicologo costano non c'è un limite di età e si stima circa 16 mila cittadini potranno usarlo per le spese per le sedute psicologiche da specialisti privati che sono ovviamente devono essere iscritti all'albo degli psicoterapeuti considerando i 600 euro di ogni ogni seduta dal valore di circa 50 euro sono coperti circa 12 incontri l'agevolazione finalizzata con 20 milioni di euro per tutto il 2022 ma lo psicologo costa solo 50 euro non lo so mi sembra mi sembra poco però magari magari mi sbaglio poi andiamo a vedere che grazie a fratelli d'italia rimangono i 2000 euro di contanti non si scende ai 1000 come voleva il governo quindi torna ad essere 2000 euro il tetto dei contanti e l'introduzione del tetto a 1000 euro viene prorogata al primo gennaio del 2023 secondo il decreto approvato dal governo a dicembre la soglia doveva entrare in vigore all'inizio del 2022 ma durante il voto in commissione è stato spostato e torna a 2000 euro lega e forza italia hanno votato a favore con fratelli d'italia poi ci sono le agevolazioni per la prima casa con questo decreto si sospende il termine per il cambio di residenza e vendita fino al 31 marzo 2022 si interviene quindi sull'articolo 24 del decreto liquidità del 2020 si parla dei termini sospesi che interessano i 18 mesi dall'acquisto della prima casa per il trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l'immobile acquistato il termine di un anno entro cui chi ha ceduto l'immobile con benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare ad abitazione principale il termine di un anno entro cui chi ha acquistato un immobile da abolire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione eventualmente ancora in suo possesso poi andiamo a vedere le cartelle esattoriali viene approvato l'emendamento che vuole rateizzare le cartelle per i decaduti dalla pace fiscale è una proroga piccola che occuperà il 43 per cento dei debitori circa 532 mila sono i decaduti di rottamazione terza e saldo e stralcio robe un po tecniche secondo questo decreto i carichi contenuti nei piani di rateizzazione decaduti potranno essere nuovamente dilazionati nel dettaglio i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio anteriormente alla data di inizio della sospensione dei termini di versamento delle cartelle possono essere nuovamente dilazionati con riferimento alle richieste di rateizzazione presentate tra il primo gennaio e il 30 aprile 2022 fino ad un massimo di 72 rate mensili il mille proroga esposta quindi il termine al 31 dal 31 dicembre 2021 che è scaduto al 30 aprile del 2022 quindi fino al 30 aprile c'è questa proroga per pagare le cartelle esattoriali poi arriva un'altra proroga al primo di maggio del 2022 di quest'anno per le domande per accedere al fondo indennizzo risparmiatori fir il termine precedente era il 15 di marzo la proroga riguarda quei risparmiatori che abbiano precedentemente presentato una domanda incompleta o abbiano avviato la procedura telematica senza completarla e poi abbiamo il voucher turismo esteso da 24 a 30 mesi abbiamo la proroga per i ristoranti per l'occupazione del suolo pubblico poi abbiamo gli aiuti alle imprese le garanzie sui prestiti sono soggetto oggetto di proroga fino al 30 giugno del 2022 e poi per quanto riguarda l'ex ilva più fondi a bonifica ma serve poi un decreto attuativo per quanto riguarda la scuola e l'università entro il prossimo 15 giugno un nuovo concorso straordinario per docenti precari con 36 mesi di servizi quindi stato bloccata la proroga dell'aggiornamento del rinnovo delle graduatorie dei precari della scuola poi andiamo a vedere air italy cioè la alitalia creato un apposito bacino per sostenere per i prossimi tre anni lavoratori licenziati e poi trasporto pubblico per aiutarlo la proroga fino al 30 di marzo del divieto di decurtazione delle risorse che le regioni erogano alle aziende del tp per eventuali minori corse effettuate a causa della pandemia e poi c'è il voucher per i giovani autotrasportatori e con questo io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video arrivederci